Abbiamo augurato buon lavoro e, come sapete, il MAI è composto da due anime, una degli italiani eletti all'estero e una dagli eletti nelle liste dei 5 Stelle a cui non è stata data poi la possibilità di iscriversi al gruppo parlamentare dei 5 Stelle. Tenendo fede a quello che avevamo già detto in passato, non è il banco in cui si siede che ci fa decidere come comportarci, ma nonostante siamo stati dispiaciuti e feriti da questa decisione, tenendo fede a quello che abbiamo chiesto agli elettori e tenendo fede alla fiducia che gli elettori ci hanno dato lo scorso 4 marzo, altrettanta fiducia abbiamo espresso noi al Presidente incaricato. È stato il tempo sufficiente per rappresentare a lui la circostanza che il sottoscritto, e il collega che oggi siete insieme a me nel gruppo ministro del Senato e che non ha aderito a nessuna componente politica, ha l'intenzione di sostenere il nascente governo e auspicabilmente anche l'azione politica che si svilupperà nel corso della legislatura.